Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. La spintarella di Alfonso Signorini al GF e l'invito a svegliarsi è servito a qualcosa. Perché finalmente oggi Letizia Petris si è decisa a prendere una posizione tra il suo ragazzo e Paolo Masella. Su Twitter in queste ore c'è chi esulta era l'ora che si muovesse e chi critica la geffina lascia il fidanzato con un comunicato inconfessionale, bella roba. Questa lascia il fidanzato e si butta subito su Paolo. La Petris ha dichiarato che ufficializzerà l'addio al compagno tramite un comunicato che farà inconfessionale entro domenica. Ma in realtà in diretta stamani è già stata chiarissima. Durante un momento di confidenze con Wozicien, Letizia ha ammesso di provare qualcosa per Paolo. Poco dopo la geffian si è lasciata abbracciare da Masella in versione Cento Celle Nightmare. Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c'era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare. Io adesso sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri. Gli avevo già confessato tutto. Ma io aspettavo a parlarne così apertamente. Quindi adesso non so come andrà. Poi non è che adesso mi vedo la famiglia con lui, casetta e cani. Però adesso so cosa voglio. Ora so cosa merito e io merito di più. L'amore che mi dà Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l'ho vicino. E non è giusto per nessuno che io continui appunto ad avere il freno a mano.